Più corse, più spazio, più sicurezza e marciapiedi più accessibili. È il biglietto da visita del nuovo piazzale dei Pullman in arrivo e partenza dalla stazione di Gallarate. Fermeranno qui le linee per Malpensa, Castelnovate, Gola Secca, Cairate e Varese, nonché tutte le linee dei servizi urbani sulla prima corsia più esterna. L'area appena inaugurata risponde a diverse criticità di carattere pratico ma anche legate a decoro e sicurezza. È qualcosa che consente di avere anche davanti alla stazione una visuale più libera e quindi sicuramente qualcosa che incontra a favore dei tanti gallaratesi e non che utilizzano i Pullman. Il piazzale prima era solamente un'area asfaltata, quindi piuttosto disordinata. Si prestava anche a alcune situazioni di rischio, di incidenti. È stata riorganizzata in collaborazione col Comune con quattro nuove piattaforme pedonali in modo che i pedoni possano attendere in attesa e direttamente collegata con la stazione ferroviaria per un interscambio facile.